e immaginate scoparsi momo partiamo bene partiamo bene grazie tano quelle gambine sexy lì cosa c'è di mezzo non vedo nessuno io ho il fucile termico magari sono già freddi ma che cazzo mi significa magari sono già freddi sali sali posto a sedere sali sali posto a sedere non sapete cos'è cazzo raga il ballo dell'autista porca troia no 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 lascia stare quella famiglia che oggi grazie al cielo non ci sono e va benissimo così cosa ne pensate dell'aborto borra la borra va bene grazie del vostro aborto ma questo video vaga ce n'è uno qua giocaci oh tano perché sei fuori dalla città porca troia qual è il problema Diego sta arrivando da sud il tizio no è qua viene uccidermi figlio di troia massimo fuori dai coglioni per una volta che siamo sicuri che non c'è puro perché non c'è eh vabbè tano quel caccia ma 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 fa piarlo in tuo culo kiss my anus please che tipo di bacio a stampo o alla francese a lingua penetrante a francese quindi perfetto no 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 metti la bocca a buco di culo appunto ok e poi spingi in fuori la lingua ma non ci passa ovviamente la prima abbastanza è facile a passare per i cattiveri eh ma non è più a bocca di culo allora sì vabbè a bocca di culo perforata quindi a bocca aperta sì mi spiegate per quale motivo i miei video di Fortnite sono tutti quanti così volgari perché non parliamo di temi alti io prima volevo parlare di una cosa sono totalmente rotto da Enel e non l'ho più detto vabbè io ragazzi ho un'idea a livello scientifico veramente importante penso abbiano provato comunque a clonare dinosauri e animali simili però penso che non ci siano riusciti perché non riescono a trovare pezzi di DNA abbastanza consistenti per poter clonare totalmente un dinosauro magari sì ci sono alcune cose come appunto i muscerini che vengono conservati nell'ambra che vi spiegavo prima e ropettine simili che appunto conservano le cose per migliaia e forse milioni di anni non so quanto perché rimangono intrappolate lì ma ragazzi c'è un qualcosa che può contenere appunto il DNA perfetto ci pensate alle formiche c'erano anche a quel tempo sicuramente ma una formica del passato esatto per quale motivo? per prendere i liquidi che magari potrebbe aver mangiato dinosauri a quel tempo te l'hanno fatti curare ragazzi è Ludovica in live è due su in sala live se la tiro giù che domanda le facciamo? ce l'ho ce l'ho ciao Ludo cosa ne pensi della poligamia? oddio che paura mi serve la sua guida presidente lo so infatti la mia domanda è che cosa ne pensi della poligamia? è una bella cosa perfetto grazie arrivederci buona serata user was moved out of your channel cos'è la poligamia? beve è Tano bravissimo Tano io ti picchiero con un dizionario è un giro user was moved to your channel ciao chiedo scusa per prima no ci piace non è vero ti servivano contenuti per il video schifoso nooo in realtà io sto registrando serio? sì pensavo avessi finito è a tradimento no ti ho detto che adesso dovevo registrare fortnite quindi non è a tradimento non è a tradimento è lui che ha bisogno di contenuti esatto sono disperato credimi non so cosa fare mi dispiace cretino mi hai fatto spaventare un sacco porca troia usi impropri della nuova impulso no del portatile ciao Ludo vi lasciamo in pace scusatemi ti sposto davvero stavolta addio addio no no Diego non si fa oh mio dio cosa ti sta succedendo al microfono Diego what the fuck eh? eh ti sta friggendo un foto a me? sì ma che cazzo mi sta friggendo? ma poi andò le patatine in camera raghi che senso mi sta friggendo? ok ora non più quando i bambini fanno no mi piace stuprarvi eh ma porca troia che problemi hai stasera? raga scudino scudone devi dettemeli e fate quel cazzo che volete non infilarti di super il culo Tano gnammi 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 eh troppo tardi cazzo one man one jar ehi nooo dovrebbe parlare la versione meme one man one jar ma poi gli aumenta lo scudo con lo so glu 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 Tano tu mi hai visto no 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 cosa? no non c'è né sangue né niente sappito quindi non è nulla di gorro o altro gasto silenzio che è successo? devo dirlo anch'io no basta che legge la descrizione su urban dictionary è il video più disgustoso dell'intero web nel quale ha un tizio peggio del cacciavite di quella volta e Tano cosa? eh no c'era uno ah ok c'era uno ok no ok va bene l'importante è quello sta lontano era un altro team ancora vabbè rip ero è vero vai a uccidere il pesce fagli un emote però prima di ucciderlo prenderà anche un altro per me ok la faccia dell'emote andiamo al parco pacifico ok parco giochi sono i miei posti preferiti dove trovare ispirazione per cosa? Diego basta raga mi capita mai che mi mette a sedere sulle palle tipo cosa? ero rassiduto ovviamente perché sono al computer però mi sono spostato e mi si è trascinata la palla sotto la gamba e allora mi sono incicciato a Bolzano esiste un evento chiamato festival studentesco il tutto si conclude con una grande serata nel palasport della città dove ci sono tutti quanti gli studenti della città eravamo in fila per entrare qualcuno di noi del nostro gruppo della nostra classe ha menzionato un buccacke e quella che al tempo era la mia ragazza non sapeva cosa fosse e siccome nessuno di noi glielo voleva dire perché eravamo in un luogo pieno di gente lei si è messa a urlare che cos'è un buccacke? aspettavo un tizio che le dicesse dai vieni te lo faccio vedere poi gliela mi ha spiegato sottovoce ma è stato di un imbarazzante questo video si chiamerà tenete i bambini lontani da fortnite facciamo le bedwars facciamo una bedwars seriamente facciamo una bedwars? perché no? ah ho due scudoni grandi quindi due di voi maschioni si possono fullare ma cosa puoi fullare uomo? le mie speranze questa era deep Diego sai cos'altro sarà deep tra un po'? dai cos'è wholesome invece? cos'è wholesome? I let you guess la tuga? I let you guess ti faccio indovinare la tuga tano nani? mi fa schifo la disco smettila io ero quello che in discoteca portava le giacche porca puttana anch'io Diego quanto cazzo è triste la nostra vita fa cagare la nostra vita lo so sei così tardo? se io gli ho driftato in faccia speravo di fare una cosa figa invece avete fatto una cagata erano a destra e a sinistra due team differenti impalinati oh raga ma che cazzo è successo al cubo di fortnite ok what the fuck cioè guardate ha modificato tutto oh mio dio guardate anche il cielo raga il cielo sta impazzendo oddio what the fuck ha fatto il mondo tutto a cubetti ma che cazzo stiamo giocando a lego ma a parte a parte che infatti oh mio dio oh mio dio ma che io me la camper aspetto che la save stringa mi raccomando fate i bravi anche voi ma dove stringerà eh non lo so non lo so è questo il problema raga no dobbiamo prendere anche i diamanti sennò siamo morti e sennò potenziamo qua nel gioco siamo morti ok raga ne ho battuto uno perfetto perfetto ne ho due contro ragazzi ne ho due contro ah tiratemi su no raga ma best tiratemi su mostri mostri l'anerchia 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 no no ero ero a letto ero a letto cazzo cazzo dove eravate voi raghi bravi giù un altro giù un altro vai 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 hai dato un bustino ora yes raga fatto fuori anche questo team mi sono incassato nel blocco fa lo stesso oh raga vittoria reale al primo tentativo che top top cazzo raga vi rendete conto che non giochiamo una bedwars da secoli ne facciamo una a caso per sbagliare la vinciamo fanculo usciamo da sto gioco di merda argomento del giorno figa siamo a fine video mi butti fuori l'argomento del giorno a fine video una roba banale vai però penso sempre a queste cose vai cioè sai cos'è che mi fa ridere veramente in ambito sessuale ma mi fa ridere tipo pensare a un uccellino che schizzetta cioè ce l'hanno il pisello gli uccelli cioè wow suppongo di si eh tu ci pensi cioè non lo so mi fa quasi ridere come cosa non ci avevo mai pensato onestamente non mi interessa neanche pensarci infatti perché mi immagino un uccello con un uccello e what eh vabbè il lavoro delle formiche uomo è quello eh come stai messo te sto fightando ma c'è gente che c'è gente morta eh la gente è morta ovunque uomo brutta storia lo so io ho atterrato uno cioè l'ho ucciso ok ho ucciso un altro ho ucciso un altro ancora oh anch'io io sono a 4 kill Tano io 3 che cavolo abbiamo fatto che cazzo non lo so abbiamo ripulito rapide ma il bello è che non erano nemmeno senza armi eh cioè no no infatti anche i miei erano tardi semplicemente sì anche da me erano tardi eh però le armi ce l'avevano comunque ah quello sì beh io sono messo anche bene uomo ma nooo chi cazzo l'aveva vista per favore what the fuck bene ora che abbiamo ripulito rapide andiamo a perderla questa partita c'è gente no sì ci vanno qua dove da me dai perché perché anus distrugge tutto no non è vero rischiava di armi tantissimo ho mai rascurato io no oh gente amico 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 sì effettivamente dobbiamo aspettarcelo l'amico da dove da 218 ore dove sono io dove sto guardando ah lo vedo 58 30 è senza vita Tano mi sto ancora curando io eh aspetta no ti aiuto così se lo facciamo no Tano non ha vita è falciabile Ez te lo fai easy uomo bella ora mi curo ho anche missato con il primo colpo Tano perché le partite con te vanno sempre bene cioè ti rendi conto siamo un buon team perché sappiamo giocare bella battuta no dai no aspetta ci sono ancora le case lì da luttare volendo te le faccio un no da dove è da dove eravamo prima posso farmali entrambi eh come sembrano i tipi svegli ci riesci dici uno eh a voi guarda che mi hanno fatto soltanto perché no no la doppia granata così che fastidio cazzo e vabbè porca troia figli di troia gioco di merda vaffanculo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.